Michele potresti andare al supermercato a comprare delle cose? Ma certo mammina, cosa devo comprare? Allora Michele devi comprare il latte, le uova, il burro e la panna Ti vieni? Questi sono i soldini Va bene mammina, arrivo subito Eccomi mammina, sono tornato, questa è la spesa e questo è il tuo resto Michele potresti andare a comprare delle cose al supermercato? Ah ah ah, viva la gang, viva la gang, cosa vuoi bagascia? Devi andare al supermercato, mi devi comprare il latte, il burro, le uova e la panna Ti vieni? Questi sono i soldini Ci vediamo Ciao mi sento e sono tornato Ma è la mia spesa, dove hai il resto? Ah ah ah, ma che cazzo ne frega me della tua spesa di merda Sono andato a casa di Baby Gang Junior e abbiamo scioppato una skin su Fortnite fighissima Io adesso ti riempio di botte, vieni qua, vieni qua Autoplu, non mi prenderai più